Per Daniele Capezzone, portavoce del PDL, la decisione del GIP di Milano, di mandare a giudizio immediato il premier Silvio Berlusconi il 6 aprile prossimo, ricalca un copione scontato. E aggiunge. La situazione è al limite del paradosso. Non ci sono né reati né vittime, ma c'è un doppio processo a tamburo battente, uno politico e uno mediatico già in corso da settimane. Per Cicchitto, capogruppo PDL alla Camera, stiamo assistendo ad una giustizia ad orologeria, che nei confronti di Berlusconi è istantanea. Sostiene che. Il reato di concussione, imputazione che riguarda il titolare di un pubblico in carico, dovrebbe essere trattato dal Tribunale dei Ministri. Ed è quindi in atto un tentativo di sottrarre Berlusconi al suo giudice naturale. L'opposizione, unanime, chiede immediate dimissioni e che il premier si faccia processare. Grazie. 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 Grazie.